Sei davvero un gigante e tutto ciò io non l'avrei mai saputo affrontare, io avrei litigato con tutti dal giorno zero e tu lo sai. Però sono fiera, fiera, orgogliosa di te e io parlo a nome di tutta la nostra famiglia. Ti ringraziamo immensamente perché ci hai reso fieri di te, non hai mai detto nulla fuori posto, hai portato rispetto a tutti, sei stato coerente con te stesso e con i tuoi principi. Stop, freeze! Vabbè, io non ho visto... Allora, volevo fare una battuta, Natalie, Sole, questa è la vera vipera, se ci fosse stata questa in casa, questa è la vipera vera. Grazie per le belle parole che spendi per me. Davanti a tutta Italia mi dai della vipera, ma come ti permetti? Lo so, lo so. Ci siamo messi a ridere tantissimo perché ho detto, Iuli, ma anch'io lo vorrei fare, ma scordatelo, tu entri due giorni o ti cacciano o fai fuori tutti quanti. No, hai sbagliato, dal giorno zero avrai litigato con tutti. Invece tu hai una pazienza incredibile che io non mi sarei mai aspettata, ti ho lasciato che eri un ragazzino. Iuli! Ciao, benvenuta! Ciao Alfonso, grazie! Per darvi la peronzo.